Nuove modifiche temporanee alla regolamentazione veicolare nelle zone in cui si svolgono le manifestazioni della settimana sante e di conseguenza modifiche anche i tragitti degli autobus urbani. Istituito il diveto di sossa con rimozione forzata in ambo i lati lunedì 11 e martedì 12 aprile in occasione delle rappresentazioni sacre, dalle ore 15 fino a cessate esigenze in via Camillo Genovese fino alla cripta della cattedrale, nonché in corso Umberto da via Camillo Genovese a piazza Garibaldi. E poi ancora, dalle 17.30, comunque all'occorrenza e fino alla partenza del corteo, sospesa la circolazione veicolare in via Camillo Genovese, alla partenza del corteo, ingresso a Gerusalemme, da via Camillo Genovese fino a quando avrà imboccato il corso Umberto, lì dove viene sospesa la circolazione veicolare in direzione piazza Garibaldi. Il mercoledì santo, in concomitanza con lo svolgimento della sfilata dell'area al mestranza, dalle ore 7 alle ore 10, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in un civico di via Campania e un tratto di via Calabria. Dalle ore 8 alle ore 14, divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, in corso Vittorio Emanuele, da corso Umberto a Scalina Tabellini, corso Umberto dalla chiesa del collegio a via Maddalena Calafato, piazza Pirandello, compreso il tratto soprastante il bastione, via Redentore, da corso Umberto a via Maddalena Calafato e via Maddalena Calafato da via Redentore a piazza Luigi Capuana. Dalle ore 8 alle ore 14 e comunque fino a cessate esigenze, sospesa la circolazione veicolare in corso Vittorio Emanuele, da via 20 Settembre a piazza Garibaldi, piazza Garibaldi, corso Umberto, da via Regina Margherita a via Maddalena Calafato, piazza Pirandello, via Redentore da corso Umberto a via Maddalena Calafato, via Maddalena Calafato, da via Redentore a piazza Luigi Capuana, via Pugliese Giannone e via Reditalia. E poi ancora per le processioni dei piccoli e grandi gruppi sacri, la sera del 13 e 14 aprile, dalle 15 alle 4 e comunque fino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in corso Umberto, via Reditalia, compreso il tratto sotto il bastione, via Vespri Siciliani, da via Nava a corso Vittorio Emanuele, via Redentore da corso Umberto a via Maddalena Calafato, via Leconte Testa Secca, da via Elena a via 20 Settembre e via 20 Settembre. Dalle ore 16 e comunque all'occorrenza e fino a cessate esigenze, è sospesa la circolazione in piazza Garibaldi, corso Umberto, via Reditalia, via Vespri Siciliani, da via Nava a corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele, via Pugliese Giannone, via Redentore da corso Umberto a via Messina, via Leconte Testa Secca, via 20 Settembre. E infine dalle ore 16 a cessate esigenze, senso unico di marcia in via Xiboli, da via Vespri Siciliani a via Redentore, all'occorrenza e fino a cessate esigenze in via Rosso di San Secondo, da via Maddalena Calafato a piazza Europa. Il venerdì santo, 15 aprile, in occasione della processione del Signore della Città, dalle ore 15 alle ore 23, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, in via San Nicolò, via Signore della Città, via Lamedeo, da via Signore della Città a via Roma, via Roma, via Tuminelli, via Giudici, via Vespri Siciliani, da via Nava a corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele da corso Umberto a via Giudici, via Reditalia, compreso il tratto sotto il bastione, via Camillo Genovese, corso Umberto da via Genovese a piazza Garibaldi. Dalle ore 16 fino a cessate esigenze, sospesa la circolazione veicolare in via San Nicolò, via Signore della Città, via Lamedeo, tratto di strada compreso tra via Stazzone e via Roma, via Roma, via Tuminelli, via Pugliese e Giannone, via Giudici, via Vespri Siciliani, da via Cardinale Nava a corso Vittorio Emanuele, via Reditalia, corso Umberto da via L'Oregina Margherita a piazza Garibaldi, piazza Garibaldi, via Genovese, corso Vittorio Emanuele, da via 20 Settembre a via Giudici. Nella stessa fascia oraria viene istituito il senso unico di marcia, in via Lamedeo, da via Stazzone a via Regina Margherita, via Xiboli, da via Vespri Siciliani a via Redentore. Infine, per la domenica di Pasqua, istituito, dalle ore 8 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Umberto, tratto di strada compreso tra via L'Oregina Margherita e piazza Garibaldi, via L'Oregina Margherita in entrambe le carreggiate, tratto compreso tra il via Lamedeo e corso Umberto, corso Vittorio Emanuele da corso Umberto alla scalinata Bellini, sospesa sempre a partire dalla stessa ora la circolazione veicolare in corso Umberto, da via L'Oregina Margherita a piazza Garibaldi, via L'Oregina Margherita da via Lamedeo a corso Umberto.